bella tutta la gente io sono capra pazza e non è vero sono capra pazza in questo prossimo video siamo a dire se swardico 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 si ragazzi oggi giocare a swardico perché ho voglia di giocare a swardico e quindi sono con presentati retina siamo con iaia buon arrivato iaia come sta fuga allora andiamo nella nostra partitona partituna non te la volevo continuare no 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 perché tanto non ti faccio continuare mai perché soltanto avrei ammazzato si non gioco da tantissima ragazzi io l'ho uccisa quando l'ha eh si comunque lo scorso episodio siamo ancora rimasti qui perché non avevo voglia di giocare con i cheat tu usi cheat no io uso i bibb i bibb non li conosco sono più sono i cheat e più belli i bibb non li conosco come si chiamano i bibb come si chiamano i bibb come tua madre ah i bibb tua madre ho detto i bibb tua madre mio fratello è un bambano brutto no mi chiamo sergio non è vero io mi chiamo sergio non è vero si invece no ti chiami gerlusconi no e lui si chiama aia mi ha fatto male e lui si chiama si si simo simone zitto si perché ho detto zitto perché ho detto la tua comunque il mio nome è gianfranco si mi chiamo gianfranco adesso sono morto ma porto come avvocato allora c'è una speed run di questo mondo perché non ne voglia devo attivare l'ultra istinto No, sono il crepo Ah, io dico ciao a Gesù, bambino Sergio, lo so, il nostro cane è bellissimo, brutto Bellissimo? È brutto, infatti, ho detto Bello, canino Sì, il nostro cane è brutto Si chiama Gesù Cristo Ed è brutto L'ho inventato io il nome Gesù Cristo Ah, io Non è mai esistito nel 1930 Gesù Cristo Perché sono stupidi Più, 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 più Ti ho spurato Ti ho spurato, Airon Ti ho spurato, spurato Airon, non ti ammazzo Che cavolo vuol dire spurato? Che tu me adesso, attra Ce suona tutto quello che diciamo Perché non me la smette, sembra un clacson È un clacson questo È un cavolo di clacson Vuoi vedere un clacson? Ok, è un clacson Sì È dove? È nella macchina di airon Ah, vero Nel culo di airon Saltate, baby Salta A che tu salta Non ti ha fatto un cazzo Non si dico, family friendly Pronto, baby Cosa vuol dire? Ti uccidano Vuol dire che ti faccio male Porca Tro Porca Ah, 300 Vabbè Ho perso Allora Vedete ma cosa Dobbio trovare roba E poi me la prenderò nel prossimo episodio La armatura ovviamente off camera Dopo questo video vado a farmi l'armatura E poi lo registrerò in un altro video Porca Che sarebbe il continuo Porca Tro Si dicono parolacce Ya No Tro Allora Per questo enigma Per questo è un enigma in questa titola Chiedete le capre Capre Beh, quello sì Io sono capropazza E capropazza E loro sono il mio pubblico No? Beh, dove farci Sì, ma se Fermalo Dio mio Già sta durando troppo sto video Ci ho qua minuti Non è vero Sì, te lo faccio durare 20 minuti Giusto Perché Se no dura poco E viene questi giochi E i 30 minuti Sì È un gameplay Non è Caggia giù Questa Ci fa un pollice in su E se non fa L'escape room L'avevo già fatto Un altro Io Ma mica l'ho portato poi avanti La serie Che poi ho detto basta Mi sono le tue belle Continua vola da solo Io mi ricordo di te Crepa E me ne vado Perché non lo voglio di combattere Corrompi male Superiamo I 5 pollici in su Gioca kick the body No, è un po' schifo Perché? Sto scazzando Mi piace però non lo voglio Dai Che è la tua magia Ma va da cadabra Ma lo scegai Perché lo scegliamo Perché tutte le cose Sono sgb dio mio Mamma mia Perché sei morto Perché avevo poca vita E toglie tanto quel coso Devo rifare tutto l'inizio Giù, vediamola Ciao Ce l'ho fatta Dopo molti tentativi Abbiamo trovato la spada In diamond Gioca kick the body Abbiamo la nostra nuova Spadina bella Abbiamo una nuova spada Molto potente Togliti più Ed è molto Fela Se fate tutto quello che ho fatto io Troverete tutte le spade E si Alcune dovete Ovviamente Comprarle Come la prima E la seconda No, prima no La seconda Mi sa Non mi ricordo Io se andiamo avanti Perché Dio è bello Wow Sì Ci sono molti Molte robe In questo Cosa In questo Tipo questa Che non si può prendere Perciò un modo Io se ce la faccio senza Il coso Non ci farò mai E l'altro è qua Allora Ho cittistato Sulla Le Quante robe che mi ha drappato Questo 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 qua E' un indizio Molto Così Così E' anche tanto difficile Però A volte può essere anche lì Che gioco Se non lo sai fa Sei spacciato Naturalmente Sei spacciato Assolutamente A te ti lascio stare Perché non lo volete combatterti Prendiamo un attimo su Perché c'è una cassa Che devo prendere Non quella là Più avanti Dovrete prenderla Non adesso Perché dobbiamo Ovviamente Trovare il penultimo Oggetto magico Io ho preso Io ho preso Uso il fire Perché 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 ho chiamato così Perché si chiama fire No magic No Magico Io ho In Mosca E' una cassa Si trova qua sotto Fate come ho fatto io Se no Se non lo vedete qua sotto E ci sarà Il culetto Esperienza Perchè Perchè l'esperienza 1 160 di esperienza Ovviamente 2 3 5 6 1 2 3 4 4 5 6 Ci mettiamo Ovviamente I curi Sì Perché curi Perché sono utili I curi I curi I migliori E io ho quasi finito No Te ti ammazzo Poi vogliate ammazzarti E' abbastanza semplice Perché E' anche tanto difficile Aia Lo devo dosare E' muori Aio Vabbè Ciao Sì Andiamo Infatti Dove se l'andato Credo Credo sì Non so Non so dove è andato Vabbè Sì Comunque Per tutto il video Non avete sentito La musica del coso Sto sentito Credo di levarlo Credo Ma adesso Aia Maledetti Ragni Brutti Ragni Brutti Siete brutti Ragni Anche non piacciono i ragni Mi piacciono pure Sono qua Allora se mai Io te lo metti qua Andiamo Via No Non mi fa Te lo Andiamo Perché sono così Non lo so Non cogliere Perché Sono un po' Raffreddato E vabbè Io vivo la madalena Bella madalena 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 Sono sicuro Cheiggano Per cascarlo E' Bon non andate subito questo tipo guardato aia ci sono dei spazi ando qui c'è il nostro giudissimo gioielli per noi Sì, faccio vedere questo e fate una cosa così, così almeno non vi dovrebbe colpire. Adesso stiamo attenti a non cadere qui perché qua è molto difficile, guardate, e ce l'abbiamo fatta, meno male, se lo fate tutti in filo dovreste farcela, e questo è difficile perché dovete fare ancora così, e poi dovete ritornare indietro ovviamente, questa no, non ce lo farete mai, io torno indietro, scusate, ma no, allora, allora, sì, ci ho fatto. Non è male. Tanto che torniamo vi dico che porterò qui in destra che in nessuno non ne voglio, non ne voglio, però vi porto la parte già che ho iniziato, non ne ho vede di creare una nuova partita, credo, lo credo faccio una partita, vedremo. No, sarà il tempo a dirci, non lo porterò oggi, oggi, ovviamente, questo era l'altro giorno, perché ovviamente ho fatto il video, questo video lo caricherò dopo, non lo so quando lo carico, vedremo un po'. Qua c'è il voto. No, non lo male. No, non lo male. No. E qua non vi buttate, eh. Qua c'è il voto. La murietta è basta. E' qui. 310. Ci vediamo al mercato. Ok. Prendiamo l'armatura e concludiamo il video. Allora. Salve. Sì. Eccolo qua. 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 50. Non ci tengo. E prendiamo l'armatura. 300. Di show. Di show. Di show. E ovviamente lo prendiamo con un fastidiosissimo suono di monete cassa in avanti. Siamo poveri. Abbiamo solo 21 gemme. E vabbè. 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 Almeno abbiamo una protezione in più. Ok. Adesso abbiamo una bella protezione. Sia. E se sciomere entramo. Mi sa che c'è la nuova armatura. Vediamo. Sì. Ecco qua. La. Magica. Di. 700. Soul. Shard. Veramente. Tanto. Io ce l'ho ovviamente. Eh. Crime di computer. Vi faccio vedere. Le mie. Due partite. Andiamo un attimo a curarci. Dovrebbe esserci il curatore. Qua sopra. Oppure attrice. Perché non femmina. Non so perché. Vabbè. Sola femmina. Sì. Vabbè. Grazie. E adesso abbiamo tutti quelli. Adesso. Andiamo. Un po' nel menu. E vediamo la mia. Questa. C'ho. C'ho questa. E abbiamo questa. Vi faccio spoiler. Vi voglio vedere solo a che livello. C'è uno. Un po' l'altro. Un po' l'altro. Un po' l'altro. Un po'. Un po' l'altro. Ci vediamo al prossimo video, che sarà cosa stasera, con un video verso 3.